via e allora salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nostro video che sta facendo among us con il suo gas io ho fatto una brutta cosa dietro di me vabbè lo sceriffo ernie si questo è leone papera leon selly leon selly questo mi sono fatto scoppacciatati ed ecco il super super salatore Matteo lo sceriffo pure lui di scegliere oggi oggi che facciamo cosa vuoi fare leone io ho sembrato leone io ho fatto tante bro il lanciatore di super slupper non sono mai stato sui e oggi vedremo perché Matteo tanto bro oggi se voi praticamente vi iscrivete al canale e lasciate la campanellina e mettete un link potrete avere dei super slupper a vostro dovere quando voi avete la live quando noi apriamo la live quando potremo fare la live a mila iscritti e mi conserverò un sacco di super slupper per voi però ci sono alcuni che lasceranno veramente like campanellina e iscrivetevi al nostro canale allora ragazzi e per noi per ovviamente per giocare con noi o su crash crash lui fa schifo vabbè io sto in lega e per giocare a brustale se non è vincente e noi abbiamo trovato 7 schifo e abbiamo trovato anche un famoso youtuber ah giusto ma non era detto eh però quello ci ha fatto vincere un sacco di coppe con la gelindo ma io sono arrivato con la gelindo avevano sparca avevano 6 tutti quasi al grado 20 nita le abbiamo fatta portare in una battita al grado 20 se non avete visto quel box offering dove avevano aperto tantissime casse con 2.000 gemme quindi vedete vedete quello che sì allora il tesoro per il secondo posto è i posti allora il tesoro per il primo posto e il primo posto secondo posto 2 posti? 3 secondo posto terzo posto avrà un emoji 2 e quarto posto e quinto avrà un emoji live e pure reazioni speciali oppure ho relazioni speciali e però se scrivete su tutti i commenti come ci possiamo mettere il creatore il supporto a crito o mettete a erly o erly sul mio secondo account aspetta no non dobbiamo per forza scrivere il nome degli account lo giuro allora cosa scrive questo non si può ancora sapere però matti mi intrattenerà per il momento matti tu dimmi qualcosa ok erly matti no ragazzi ne dobbiamo discutere un secondo giù allora matteo e matteo subito qui subito 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 un secondo giù subito un secondo giù subito eeeh non lo vedremo mai tra poco come non penso martin come bene allora ragazzi se trovavo leon io sono tra leon perchè l'hai scioppato nooo faremo un video dove ci butteremo dell'acqua gelata in terra se falliamo ok allora ci vediamo un attimo su brawl stars allora ragazzi siete pronti adesso brawler ok a parte senni e leon adesso vabbè almeno dino mike su dai le penitenze le penitenze le cercherò un attimo arrivo subito per ora no 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 e non dobbiamo fare così via rimane va vabbè lasciate stare anche se stessa sempre ma no 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 vabbè basta quando c'era una youtube e l'ambella non è un alloncio tu forse è un youtuber no quello aveva un 10.000 corsa e quello è un 9.000 non è molto giusto ok si 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 Allora che non c'è il cuore, è al... come? Il capo, il capo! 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 A me ricordo, il capo! Il capo, il capo! Il capo, il capo! Sto che sono un peddice! Oh! No! Oh! 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 Birdie! 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 Ah, ah! Oh! Ah! 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 No! Ah! Abbiamo fatto 4! Adesso è una partita di riscaldamento! Eh! E' vero! E' una partita di riscaldamento... Adesso si va di nuovo contro la mano! I've got a sharp fuse! Oh no, la la la, che è un cavolo! No, ma dove va? Oh, come va! Vai tirare! No! Dai, mai, tu vuol dire giù! Oh no, la 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 Sì! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!